Ufficio centrale elettorale presso il Comune di Brindisi, proclamazione alla carica di sede. Il Presidente dell'Ufficio centrale elettorale, tenuto presente il disposto dell'articolo 172,9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in base al quale dopo il secondo turno di votazione è proclamato eletto Sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato signor Marchionna Giuseppe ha riportato tra i due candidati dalla carica di sindaco ammessi al dono di valontaggio il maggior numero di voti validi, cioè numero 16.814 voti. Quindi il Presidente alle ore 18.30 del primo giugno 2023 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Brindisi, il signor Marchionna Giuseppe. Un segno di grande informazione. Poche parole di ringraziamento. Buon saluto al Presidente e alla Commissione Sonia Centrale per il lavoro asporto fino a questo punto, per i consigliere comunali. Un semplicissimo ringraziamento all'ingegnere Riccardo Rosso. La democrazia dell'alternanza è un fatto che è possibile conquistare nel rispetto delle diverse posizioni che comunque non infigiano un rapporto umano personale di grande stima e di grande affitto. Infine a tutti voi qui convenuti in questa sede per significare il mio impegno ad essere il sindaco di tutti, di quelli che non mi hanno votato, di quelli che mi hanno votato, ma soprattutto di quelli che non si sono recati a votare. Noi abbiamo il dovere di recuperare alla cittadinanza antima le persone che in questo momento rifiutano di partecipare alla vita democratica non porcogregandosi a votare.